e ti saluto con la pace del signore buongiorno buona domenica oggi domenica per appunto 15 settembre 2024 la parola del signore viene rivolta ai nostri cuori in questi termini gesù disse venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre testo che possiamo trovare nel vangelo di matteo capitolo 11 versetto 28 e 29 il titolo di questo messaggio è una domanda deluso in un racconto della bibbia leggiamo che il profeta elia accusa i suoi connazionali di avere abbandonato dio in primo re capitolo 19 si ritiene l'unico fedele e si isola deluso e amareggiato il modo in cui dio si occupa di elia è istruttivo dio gli parla con una voce dolce gli chiede di riprendere le sue forze di tornare indietro da dove era partito e gli dice che 7000 uomini che elia non conosceva erano rimasti fedeli a dio non gli fa nessun rimprovero ma gli mostra che non deve pensare di essere solo qualche volta noi siamo come elia se ritorniamo sempre sui nostri problemi non facciamo che ingigantirli fino al punto di credere che dio ci abbia abbandonati ma dio ci dà due risorse gesù cristo che ha che ha conosciuto l'incomprensione e la delusione quando era sulla terra sovente neppure i suoi discepoli lo hanno compreso egli ci dice imparate da me io sono con voi tutti i giorni ora niente può separarci dal suo amore esponiamogli brevemente tutte le nostre pene ed egli ci ascolterà e ci ascolterà con tenerezza e poi come seconda cosa abbiamo la famiglia dei credenti vedete quale amore ci ha mostrato il padre dandoci di essere chiamati figli di dio i credenti formano una famiglia sono fratelli e sorelle che si ascoltano e si aiutano a vicenda gesù è morto per riunire in uno i figli di dio dispersi non rimaniamo sole non abbiamo bisogno gli uni noi abbiamo bisogno gli uni degli altri una persona isolata e più vulnerabile rimanere vicino agli altri credenti è una buona sicurezza ricordiamoci della bontà di dio che non finisce mai e agiamo con grazia prendendoci cura gli uni degli altri a me che bellissimo messaggio di incoraggiamento io non voglio aggiungere nient'altro perché questo messaggio mi ha già incoraggiato di per sé quindi riflettiamo su queste parole se non le hai capite bene riavvia tutto il video riascolta di nuovo la parola di dio e questo messaggio e riflettiamo su queste parole perché è veramente importante dio ti benedica buona giornata mi ha già incoraggiato di nuovo la parola di dio e questo messaggio e riflettiamo